gabriel garco ospite del programma ciao maschio condotto da nunzia de girolamo ha rivelato di aver fatto coming out per evitare che altri lo facessero al suo posto l'attore di 52 anni ha dichiarato la sua omosessualità quattro anni fa durante la sua partecipazione al grande fratello vip dove si trovava anche la sua ex rosalinda cannavo garco ha spiegato che si sentiva bloccato da qualcuno che gli impediva di essere se stesso sotto molti aspetti e che per lui il coming out non sarebbe stato necessario se non fosse stato costretto da circostanze esterne l'attore ha sottolineato che ritiene che finché esisterà il concetto di coming out non si sarà veramente liberi l'attore ha ammesso di aver subito una pressione che lo ha spinto a fare coming out altrimenti sarebbe stato svelato da altri in modo poco rispettoso garco ha considerato questo passo come necessario in quel momento della sua vita cercando di farlo nel modo più sincero e naturale possibile per poter continuare a vivere serenamente dopo aver detto la verità gabrielle garco ha dichiarato di sentirsi sollevato da un grande peso e di poter finalmente vivere la sua vita in modo autentico la sua confessione ha suscitato reazioni diverse ma l'attore ha ribadito di aver agito per sentirsi libero e in pace